Una lampada con un diffusore a cappello, che è l'archetipo della lampada, così come tutti noi ce lo immaginiamo. Il cappello ha una dimensione, se vogliamo, quasi sproporzionata rispetto allo stelo e in qualche maniera ricalca un po' l'idea di un albero che ha un tronco, una base che poi si dirama in una chioma. Non a caso anche il nome in qualche maniera ricalca questa idea di un piccolo uccellino che si posa su un ramoscello, il tutto intorno a un concetto che è quello della leggerezza in natura. L'evoluzione è una cosa gentile, dolce, che ti accompagna, utile. Per cui c'è un'estetica gentile sposata dall'utilità. Questo snodo è proprio il concetto di come si modificano le piante. Monocromatico sicuramente ha a che fare con una parola, uno. L'unità in questo progetto voleva proprio raccontare la continuità tra gli elementi. Di colori ne abbiamo indagati, penso qualche centinaio per poi arrivare ad una selezione. E a questi colori più forti abbiamo cercato anche di abbinare, per esempio, un color sabbia. Il colore nasce per noi come una punteggiatura e questa punteggiatura deve necessariamente entrare su quelli che sono gli oggetti meno voluminosi della casa. Attraverso la luce tu cambia uno spazio. Per esempio queste lampade che abbiamo fatto hanno questo touch, per cui la quantità di illuminazione aumenta o diminuisce. Tu crei una luce diffusa, una luce più punteggiata, più forte, più bassa. Entra in un dinamismo architettonico. Le plastiche oggi sono cambiate tantissimo, per cui sono diventati non più dei materiali chip, ma sono diventati comunque dei materiali espressivi. È un materiale lucido all'esterno che riprende la stessa finitura dello stelo. Dà comunque quasi un aspetto vetroso a questa plastica, è un aspetto comunque prezioso. La plastica ti dà questa possibilità, arrivare a determinare un colore preciso e riprodurlo in maniera industriale perfettamente identico su tutto. Un altro vantaggio della plastica è che ti consente di avere poi delle situazioni di luce diffusa estremamente piacevoli e controllate. Brody può vivere due anime, perché quando è spenta ha un total look, ha una uniformità completa. Accesa invece avviene qualche cosa, iniziano a crearsi dei giochi di ombre. Non è solamente una lampada decorativa, non è un oggetto illuminato, è un oggetto che comunque svolge una funzione di illuminare. Se dovessi definire questo oggetto gli darei un'idea un po' forse un po' anacronistica, un po' aristocratica di un protagonismo educato. Non è un oggetto sentativo, è un oggetto per sé.